allora ragazzi buonasera stiamo appena ritornando da una festificiola a festa di piazza stavamo al museo alla mezza c'era traffico e ho incrociato una bella ragazza che stava in una amica in una chia nega scusate è veramente bella bella assai è stato un colpo di fumine da parte tua è stato un colpo di fumine a prima vista se tu ti riconosci e stai guardando il video contattami c'è qua sotto e contattami perché sono veramente interessato a te quindi mi raccomando poi ti ho detto pure di seguirmi su instagram, youtube se ti riconosci contattami ok ciao ciao